buongiorno a tutti con questo video tutorial andiamo a vedere come inserire e compilare una domanda di gradatoria permanente ATA 24 mesi per uno dei profili del personale ATA andiamo alla compilazione facendo vai alla compilazione entriamo in una pagina in cui è riferito l'informativa sui dati personali sulla legge sulla privacy e ci sono tutte le avvertenze sulle dichiarazioni personali che il soggetto aspirante all'inserimento della gradatoria 24 mesi dovrà attuare scendendo si va poi in accedi alla domanda e dunque facendo accedi si entra nella scelta della provincia che riteniamo essere appunto una scelta obbligata cioè l'aspirante all'inserimento nella gradatoria 36 mesi dovrà inserirsi laddove o già è inserito precedentemente o nella provincia in cui è inserito nelle gradatorie di istituto di terza fascia facendo avanti si entrerà in una pagina di anagrafica della sperante e facendo nuovamente avanti si entrerà proprio nella pagina per la compilazione della domanda entrando in questa pagina è il modello di presentazione della domanda dove avrà le varie aree per poter essere compilate il modello b1 è richiesto per i nuovi inserimenti in dati profili ata il modello b2 per un semplice aggiornamento dei profili in cui l'aspirante già si trovava poi ci sarà all'area dei titoli culturali e titoli di servizio i titoli specifici in caso di assistente tecnico per cui si potrà inserire anche questo i titoli di preferenza i titoli di riserva qualora ce ne fossero il modello h è un modello riferito ai alle precedenze che il aspirante al che deve entrare probabilmente potrebbe avere e dunque un articolo 21 della legge 104 o anche un articolo 33 commi 57 per l'assistenza ai familiari e il modello f invece è il modello della rinuncia alle supplenze perché questo tipo di gradatore valgono sia per le supplenze e sia per diciamo l'inserimento in ruolo cioè i contratti a tempo determinato comunque facciamo il caso in specie di un inserimento per la prima volta in un dato profilo si va sull'azione della domanda e si sceglie il tipo di profilo che si vuole fare che si vuole diciamo inserire dove praticamente ci sono il servizio ci sono i 23 mesi 16 giorni quantomeno per poter entrare vedete c'è la possibilità di inserirsi sul profilo assistente amministrativo o assistente tecnico o cuoco o addetto delle aziende agrarie o di collaboratore scolastico o infermiero guardia rubiere facciamo il caso per esempio di collaboratore scolastico inseriamo e dobbiamo inserire in quest'area il titolo di diploma che si possiede anche con un triennale una qualifica professionale dunque un diploma di scuola superiore ma di tre anni dunque quella che si chiama qualifica professionale si può accedere al ruolo e al profilo di collaboratore scolastico mettiamo il caso in cui si abbia un diploma come il mio di liceo classico conseguito nell'anno scolastico 85 86 e con la data di conseguimento è il voto in sessantesimi ma quelli attuali sono in centesimi dove si è conseguito la modalità di accesso sono possono essere tre se l'aspirante si trova per esempio in servizio a tempo determinato attualmente potrà indicare la modalità a invece indicherà la modalità b qualora non sia in servizio ma è inserito in una gradatoria provinciale ad esaurimento oppure ci se non è in servizio ed è in una gradatoria d'istituto di terza fascia sempre per riferita al personale ata dovrà ammettere se sceglie la modalità a anche dire sotto la propria responsabilità flegare il fatto che ha maturato questi mesi questi 24 mesi che ricordiamo possono essere anche 23 mesi e 16 giorni indicare il codice meccanografico della scuola in cui sta prestando servizio ed infine dire la provincia in cui sta prestando servizio dove si trova ubicata la scuola dove sta prestando servizio che poi potrà inserire così la sua il modello b1 aggiornato con pieno successo ecco questo è un esempio per come iniziare la domanda per inserirsi in un profilo di 24 mesi speriamo che questo video tutorial sia diciamo apprezzato e utile ai nostri telespettatori ne seguiranno degli altri per le altre gli altre sezioni da compilare arrivederci e a presto grazie a tutti